La Chiesa di Gesù Cristo Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il Presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della Prima Presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione. Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla seconda sessione della 183esima Conferenza Generale di ottobre. Il Presidente Thomas S. Monson, che presiede alla conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala o che ci seguono per radio, televisione o internet. E coloro che sono riuniti nei centri di Palo in molte parti del mondo, in cui la conferenza è trasmessa via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di famiglie dei pali di Roy, Keynesville, Hooper e West Haven, nello Utah. Sarà diretto dalla sorella Jane Fjelstedt e accompagnato all'organo da Linda Marghez. Il coro darà inizio a questa sessione cantando On This Day of Joy and Gladness. Dopo l'inno, la preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Paul V. Johnson dei Settanta. Poi il Presidente Henry B. Eyring presenterà i dirigenti generali e i Settanta di Aria della Chiesa per il Sostegno. On This Day of Joy and Gladness Lord, we praise Thy holy name In this sacred place of worship We Thy glories now proclaim Open wide the fount of Zion Let her richest blessings flow Alleluia, alleluia, bright and clear our voices ring, singing songs of exultation to our maker, Lord and King. . May we labour in the kingdom by a prophet's love foretold, with the children of the promise shall be gathered in the fold. Alleluia, alleluia, bright and clear our voices ring, singing songs of exultation to our maker, Lord and King. . Singing songs of exultation to our maker, Lord and King. . 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 La 183 Conferenza Generale, Sostegno dei Dirigenti, si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Henry Benyon Eyring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Frederick Uchtdorf come secondo consigliere della prima presidenza. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Boyd Kenneth Packer come presidente del Quorum dei Dodici Apostoli e i seguenti fratelli come membri di quel quorum. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Tallinn H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey A. Rowland, David Bednar, Quentynel Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. I favorevoli lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i dodici apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Si propone di rilasciare gli anziani John B. Dixon, Paul E. Colliker e F. Michael Watson quali membri del primo quorum dei settanta e di nominarli autorità generali e merite. Si propone anche di rilasciare l'anziano Kent D. Watson come membro del secondo quorum dei settanta. Allo stesso modo esprimiamo apprezzamento per gli anziani Cesar Hooker e Craig T. Wright, che sono stati rilasciati dal loro servizio come settanta di area. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento per questi fratelli, per l'eccellente servizio svolto, lo manifestino. Si propone di sostenere i seguenti nuovi settanta di area. Giulio A. Angulo, Peter F. Evans e Gennady N. Poddowolf. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere Randall e Reed come secondo consigliere della Presidenza generale dei giovani uomini. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere le altre autorità generali, i settanta di area, e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente costituiti. I favorevoli lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Grazie, fratelli e sorelle, per il vostro voto di sostegno, per la vostra fede e per le vostre preghiere per noi. Grazie, Presidente Eyring. Grazie, Presidente Eyring. Adesso il coro canterà, Io sento l'amor del Signor. Dopodiché avremo il piacere di ascoltare il Presidente Boyd K. Packer, Presidente del Quorum dei dodici apostoli. Sarà seguito dagli anziani D. Todd Christofferson, del Quorum dei dodici apostoli, e S. Gifford Nielsen, dei settanta. Grazie. 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 I will follow faithfully My heart I give to Him I know that my Savior loves me Now I am here in a beautiful place Learning the teachings of Jesus Parents and teachers will help guide the way Lighting my mouth every day Wrapped in the arms of my Savior's blood I feel His gentle touch Living each day I will follow His way Home to my Father above I know He lives I will follow faithfully My heart I give to Him I know that my Savior loves me I know He lives I will follow faithfully My heart I give to Him I know that my Savior loves me 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 I know that His Father is all Remember that my Savior is all A course I know that my Savior is all And He will find the right le forme istituite dal Salvatore ed esposte nelle sue scritture. Oggi i genitori si chiedono se ci sia un luogo sicuro per crescere i figli. C'è un luogo sicuro. È una casa incentrata sul Vangelo. Nella Chiesa ci concentriamo sulla famiglia e consigliamo ai genitori di tutto il mondo di crescere i propri figli in retiutidine. L'Apostolo Paolo profetizzò e ammonì negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disobbedienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinegata la potenza. Paolo disse anche «I malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti». Questi versetti servono da monito e mostrano quali modelli evitare. Dobbiamo essere sempre vigili e diligenti. Possiamo ripassare ognuna di queste profezie e mettere segni di spunta per indicare quelle che sono davanti a noi e che danno preoccupazioni nel mondo oggi. Tempi difficili, presente. Viviamo in un'epoca di grande precarietà. Amanti del denaro, vanagloriosi e superbi, sono tutti presenti tra di noi. Vestemmiatori, disubbedienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale. Sono tutti ben rappresentati. Mancatori di fede, calunniatori e così via. Possiamo spuntarli tutti guardando quello che accade intorno a noi. Anche Moroni parlò della malvagità dei nostri giorni quando a Monì, «Quando vedrete giungere fra voi queste cose, risvegliatevi al senso della vostra terribile condizione». Pertanto io, Moroni, ho ricevuto il comandamento di scrivere queste cose affinché il male sia eliminato e affinché possa venire in tempo in cui Satana non avrà alcun potere sul cuore dei figliuoli degli uomini, ma che essi possano essere persuasi a fare continuamente il bene per poter venire alla sorgente di ogni retitudine ed essere salvati. Le descrizioni che Paolo e Moroni fanno dei nostri giorni sono così precise che non possono essere ignorate. Per molti può essere molto preoccupante, persino scoraggiante. Ciò nonostante, quando penso al futuro, sono pervaso da un senso di positivo ottimismo. In una rivelazione di Paolo, in giunta alla lista delle difficoltà e dei problemi, ci viene anche detto che cosa possiamo fare per proteggere noi stessi. Persevera nelle cose che hai imparato e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute, mediante la fede che hai in Cristo Gesù. Le scritture contengono le chiavi per la protezione spirituale. Esse contengono la dottrina, le leggi e le ordinanze che porteranno ogni figlio di Dio ad avere una testimonianza di Gesù Cristo, quale proprio Salvatore Redentore. Grazie ad anni di preparazione, è stato compiuto un enorme sforzo per pubblicare le scritture in ogni lingua, con tanto di note e di riferimenti incrociati. Cerchiamo di renderle disponibili a tutti coloro che desiderano imparare. E se ci insegnano dove andare e cosa fare, offrono speranza e conoscenza. Anni fa, l'anziano S. Dilworth Young, dei settanta, mi insegnò una lezione sulla lettura delle scritture. Un palo stava avendo difficoltà a causa di tensioni tra i membri e c'era bisogno di dare consigli. Chiesi al presidente Young, che cosa devo dire? Egli rispose semplicemente, di loro di leggere le scritture. Quali scritture? chiesi io. Egli disse, non importa quali, per esempio, di loro di aprire il Libro di Mormon e di iniziare a leggere. Presto, proveranno una sensazione di pace e di ispirazione e troveranno una soluzione. Fate in modo che la lettura delle scritture sia parte regolare della vostra vita quotidiana e ne scaturiranno benedizioni. Nelle scritture c'è una voce d'avvertimento, ma anche grande nutrimento. Se all'inizio il linguaggio delle scritture vi sembra strano, continuate a leggere. Presto, giungerete a riconoscere la bellezza e la forza che si trovano in quelle pagine. Paolo disse, Ogni scrittura è ispirata da Dio è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Potete mettere alla prova personalmente questa promessa. Viviamo in tempi difficili. Tuttavia, possiamo trovare speranza e pace per noi stessi e per le nostre famiglie. coloro che vivono nella sofferenza e non sperano più che un figlio possa essere salvato dalla condizione a cui l'ha portato il mondo, non devono mai arrendersi. Non temere. Solo abbi fede. La rettitudine è più forte della malvagità. I bambini ai quali viene insegnato presto a comprendere le scritture imparano a conoscere il sentiero che devono percorrere e sono più propensi a rimanervici. Coloro che si allontanano hanno la possibilità di tornare e aiutati possono ritrovare la strada del ritorno. I figli di Mosia combatterono contro la Chiesa per un certo periodo, ma in seguito si pentirono ed ebbero un cambiamento drastico. In Alma leggiamo, questi figli di Mosia si erano rafforzati nella conoscenza della verità, poiché erano uomini di sano intendimento e avevano scrutato diligentemente le scritture per poter conoscere la parola di Dio. Il presidente Joseph F. Smith aveva sei anni quando suo padre Hiram venne ucciso nel carcere di Carthage. In seguito Joseph attraversò le praterie con sua madre vedova. A 15 anni fu chiamato in missione alle Hawaii. Si sentiva perso e solo e disse «Mi sentivo molto oppresso. Mi sentivo talmente abbattuto da tale condizione di povertà, di mancanza di intelligenza e di conoscenza, essendo soltanto un ragazzo che osava a malapena guardare in volto un'altra persona». Una notte, mentre rifletteva sulle sue difficoltà, il giovane Joseph sognò di essere in viaggio e di affrettarsi quanto più possibile. Portava con sé un piccolo fagotto. Alla fine arrivò davanti alla sua meta un edificio meraviglioso. Mentre si avvicinava, vide un cartello che diceva «Bagno». Entrò rapidamente e si lavò. aprì il piccolo fagotto e trovò indumenti bianchi e puliti, oggetti, disse, che non vedevo da tanto tempo. Li indossò e si precipitò alla porta dell'edificio. Bussai e la porta si aprì, disse, e l'uomo che si presentò al mio sguardo era il profeta Joseph Smith. Mi guardò con un'ombra di rimprovero e le prime parole che disse furono «Joseph, sei in ritardo». Eppure io presi fiducia e risposi «Sì, ma sono pulito. Sono pulito». E così può essere per ognuno di noi. Se vi siete incamminati sulla via della fede e dell'attività nella Chiesa, rimaneteci e restate fedeli alle vostre alleanze. Andate avanti fino al momento in cui riceverete le benedizioni del Signore e lo Spirito Santo si rivelerà come forza motrice nella vostra vita. Se in questo momento state percorrendo un sentiero che si allontana da quello illustrato nelle scritture, voglio rassicurarvi che c'è il modo per tornare indietro. Gesù Cristo ha stabilito un metodo molto chiaro che ci permette di pentirci e di trovare guarigione nella nostra vita. Il rimedio per la maggior parte degli errori si può trovare cercando il perdono mediante la preghiera personale. Tuttavia, ci sono alcune malattie spirituali, in particolare quelle relative alla violazione della legge morale, che richiedono assolutamente l'aiuto e le cure di un medico spirituale qualificato. Anni fa vennero nel mio ufficio una giovane donna e il padre, già di una certa età. Ella lo aveva portato a diverse centinaia di chilometri da casa per trovare un rimedio alla colpa che questi provava. Quando era ragazzo, aveva commesso un errore grave e nella sua vecchiaia questo ricordo era riaffiorato. Non riusciva a scrollarsi di dosso il senso di colpa. Non poteva tornare indietro e rimuovere da solo il problema della sua giovinezza, ma avrebbe potuto iniziare da dove si trovava e con l'aiuto di qualcuno cancellare il senso di colpa che lo aveva perseguitato in tutti quegli anni. Fui grato che, insegnandogli i principi del Libro di Mormon, fu come se un peso enorme gli fosse stato tolto dalle spalle. Quando lui e sua figlia tornarono a casa, a molti chilometri, l'uomo si era lasciato alle spalle la colpa delle trasgressioni passate. Se vi risvegliate al senso della vostra terribile condizione e desiderate tornare alla piena salute spirituale, parlate con il vostro Vescovo. Egli detiene le chiavi e può aiutarvi lungo il sentiero del pentimento. Il pentimento è una cosa personale, come pure il perdono. Il Signore chiede alle persone soltanto di abbandonare i propri peccati ed Egli perdonerà la loro iniquità e non si ricorderà più del loro peccato. Quando il processo del pentimento sarà completo, giungerete a comprendere il significato della promessa di Isaia riguardo all'espiazione, e poi venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlato, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Proprio come il gesso può essere rimosso dalla lavagna, con il pentimento sincero, gli effetti della nostra trasgressione possono essere cancellati tramite l'espiazione di Gesù Cristo. Questa promessa si applica a tutti i casi. Il Vangelo ci insegna a essere felici, ad avere fede piuttosto che paura, a trovare speranza e a superare la disperazione per lasciare l'oscurità e andare verso la luce del Vangelo Eterno. Paolo e altri ci ammonirono sulle difficoltà del nostro tempo e dei giorni ancora a venire. Ma la pace può dimorare nel cuore di tutti coloro che si volgono alle scritture e che aprono la porta alle promesse di protezione e di redenzione che vi vengono insegnate. Invitiamo tutti a volgersi al Salvatore Gesù Cristo e ai Suoi insegnamenti contenuti nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, nel Libro di Mormon, in Dottrina Eleanze e in Perla di Gran Prezzo. Rendo testimonianza che le scritture sono la chiave per la nostra protezione spirituale. testimonio, inoltre, del potere di guarigione dell'espiazione di Gesù Cristo affinché tramite Lui siano salvati tutti. La Chiesa del Signore è stata ancora una volta istituita sulla terra. Rendo testimonianza della veridicità del Vangelo. Sono un Suo testimone. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Da epoca immemorabile, le società si appoggiano sulla forza morale delle donne. Benché non sia l'unica influenza positiva della società, il fondamento morale delle donne si è dimostrato di straordinario beneficio al bene comune. Forse proprio per la sua importanza, questo contributo delle donne spesso non è apprezzato. Voglio esprimere gratitudine per l'influenza delle donne buone, individuare alcune delle filosofie e delle mode che minacciano la forza e la condizione delle donne ed esortare le donne a sviluppare il loro innato potere morale. Le donne portano al mondo una virtù speciale, un dono divino che le rende atte a instillare qualità come fede, coraggio, empatia e purezza nei rapporti con gli altri e nelle culture. Quando elogiò la fede non finta di Timoteo, Paolo gli fece notare che questa fede abitò prima nella sua nonna Lloyd e nella sua madre Eunice. Anni fa, quando abitavo in Messico, ho capito personalmente cosa intendeva Paolo. Ricordo una giovane madre, una delle molte donne della Chiesa in Messico, ricolme in modo naturale di una tal fede in Dio che sembra quasi non se ne rendano conto. Questa cara donna irradiava un'autorità morale derivante dalla sua bontà che influenzava per il bene tutti coloro che le erano vicini. Insieme al marito, sacrificava apparentemente senza esitazione molti piaceri e beni personali per ciò a cui loro davano maggiore priorità. La sua capacità nel sollevare, piegarsi e rimanere in equilibrio con i figli era quasi sovrumana. Aveva molte responsabilità e i suoi compiti erano spesso ripetitivi e ordinari, eppure in ciò e la trovava serenità, un sentimento di essere al servizio nell'opera di Dio. Come il Salvatore, il servizio al prossimo e il sacrificio l'avevano resa nobile. Era la personificazione dell'amore. Sono stato molto benedetto dall'influenza morale delle donne, soprattutto di mia madre e di mia moglie. Tra le donne a cui sono grata c'è Anna Dainz. Anna, suo marito Henry e i loro quattro figli furono tra i pionieri della chiesa nel New Jersey, negli Stati Uniti. A partire dagli anni 30, quando Henry era uno studente di medicina alla Rutgers University, lui e Anna lavorarono senza sosta con le organizzazioni scolastiche e civiche in Methusen, dove abitavano, per eliminare i pregiudizi profondamente radicati contro i mormoni e per rendere la comunità un luogo migliore per crescere i figli di tutti. Per esempio, Anna si offrì volontaria presso l'Associazione dei Giovani Cristiani di Methusen e si rese indispensabile. Nel giro di un anno divenne presidentessa dell'Organizzazione Ausiliaria delle Madri e poi le fu chiesto di candidarsi a una delle tre posizioni occupate da donne nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione dei Giovani Cristiani. Fu eletta senza alcuna opposizione e fece parte proprio di quel Consiglio che solo pochi anni prima aveva rifiutato ai Santi di riunirsi nel loro edificio. La mia famiglia si trasferì nel rione di New Brunswick quando ero adolescente. La sorella Danse mi notò e spesso esprimeva fiducia in me ispirandomi a puntare in alto più in alto di quanto avrei fatto senza il suo incoraggiamento. Una volta grazie a un suo avvertimento evitai un'esperienza che avrei sicuramente rimpianto. Benché non sia tra più tra noi l'influenza di Anna Danes continua a sentirsi e a riflettersi nella vita dei suoi discendenti e in quella di tantissime altre persone compreso me. Mia nonna Adena Warkis-Wenson mi insegnò a essere coscienzioso nel mio servizio sacerdotale. Mi incoraggiò a memorizzare le preghiere sacramentali del pane e dell'acqua spiegandomi che così avrei potuto dirle con maggiore comprensione e sentimento. Osservando come sosteneva mio nonno quale patriarca di palo nacque in me la riverenza per le cose sacre. Nonna Swenson non imparò mai a guidare la macchina ma sapeva insegnare ai ragazzi a essere uomini del sacerdozio. L'influenza morale di una donna è sentita con molta più forza ed è impiegata con maggiori benefici nella casa. Non esiste miglior ambiente della famiglia tradizionale per allevare la generazione nascente. Una famiglia in cui padre e madre lavorano in armonia per mantenere insegnare e crescere i figli. Dove non c'è questa situazione ideale le persone cercano di riprodurre al meglio i suoi benefici nelle proprie circostanze particolari. In tutti i casi una madre può esercitare un'influenza che non può essere eguagliata da nessun'altra persona né in alcun altro rapporto. Grazie al potere del suo esempio e dei suoi insegnamenti i figli imparano a rispettare le donne e ad applicare nella propria vita disciplina ed elevate norme morali. Le figlie imparano a coltivare la virtù e a difendere ciò che è giusto di volta in volta benché non sia popolare. L'amore e le aspettative elevate di una madre portano i figli ad agire responsabilmente senza scuse a pensare seriamente all'istruzione e allo sviluppo personale e a contribuire al benessere di tutti coloro che li circondano. L'anziano Neely Maxwell una volta disse quando la vera storia dell'umanità si dispiegherà agli occhi del mondo avrà in primo piano il suono dei cannoni o il canto delle ninne e nanne? i grandi armistizi stipulati dai militari o la dolce voce delle donne nelle case nel vicinato? Ciò che ha avuto luogo nella culla e nella cucina avrà maggiore effetto di ciò che è avvenuto nelle aule del Parlamento? Ciò che è più sacro è il ruolo della donna nella creazione della vita. Sappiamo che i nostri corpi fisici hanno origini divine e che devono esserci una nascita fisica e una rinascita spirituale per raggiungere i più alti reami nel regno celeste di Dio. Pertanto le donne hanno un ruolo attivo a volte al rischio della propria vita nell'opera e nella gloria di Dio di fare avverare l'immortalità e la vita etorna dell'uomo. Come nonne madri ed esempi le donne sono state le guardiane della sorgente di vita insegnando a ogni generazione l'importanza della purezza sessuale della castità prima del matrimonio e della fedeltà durante il matrimonio. In questo modo sono state un'influenza civilizzante nella società hanno tirato fuori il meglio dagli uomini hanno mantenuto un ambiente puro in cui crescere figli sicuri di sé e sani. Sorelle non voglio lodarvi più del dovuto come facciamo nei discorsi del giorno della mamma che vi fanno arrossire non dovete essere perfetto e non dico che lo siate a eccezione di una che in questo momento è seduta tra di voi voglio dire che sia che siate singolo o sposate che abbiate figli o no che siate giovani anziane o nel mezzo la vostra autorità morale è essenziale e noi forse abbiamo iniziato a darlo per scontato e a dare a voi per scontate di sicuro ci sono tendenze forze all'opera che vogliono indebolire o perfino eliminare la vostra influenza a scapito dei singoli delle famiglie e della società ne cito tre come avvertimento una pericolosa filosofia che mina l'influenza morale delle donne è lo svilimento del matrimonio della maternità e del rimanere a casa come lavoro alcune femministe vedono il lavoro in casa con disprezzo dicendo che sminuisce la donna e che crescere i figli sia una forma di sfruttamento esse si fanno scherno di quella che chiamano la carriera della mamma non è corretto né giusto noi non sminuiamo il valore dei risultati di uomini e donne impegnati in una qualsiasi impresa o carriera ma riconosciamo che non c'è miglior bene della maternità e della paternità nell'ambito del matrimonio non c'è carriera somma di denaro autorità o fama pubblica che possa essere più gratificante delle supreme ricompense che provengono dalla famiglia a prescindere da quello che una donna potrebbe realizzare la sua influenza morale non verrà mai impiegata in maniera ottimale come nella famiglia l'atteggiamento verso la sessualità umana minaccia l'autorità morale delle donne su più fronti l'aborto per convenienza personale o sociale colpisce al cuore i più sacri poteri della donna e distrugge la sua autorità morale lo stesso è vero per l'immoralità sessuale e l'abbigliamento immodesto che non solo sviliscono le donne ma danno forza alla bugia che la sessualità sia ciò che stabilisce il valore di una donna a lungo è esistita una cultura a doppia morale che richiedeva che le donne fossero caute sessualmente mentre l'immolarità maschile era scusata l'ingiustizia di questa morale è ovvia ed è stata giustamente criticata e rigettata nel rifiutarla si poteva sperare che l'uomo si elevasse all'unica norma superiore invece è successo l'opposto le donne e le ragazze ora sono incoraggiate alla stessa promiscuità che la doppia morale si aspettava dagli uomini mentre prima le norme elevate delle donne richiedevano all'uomo impegno e responsabilità oggi ci sono rapporti sessuali consumati senza coscienza famiglie senza padri e povertà in crescita la pari opportunità della promiscuità priva le donne della loro influenza morale e degrada tutta la società in questo misero baratto è l'uomo a essere liberato mentre le donne e i bambini soffrono di più la terza è causata da coloro che nel nome dell'uguaglianza vogliono cancellare le differenze fra uomo e donne spesso questo si manifesta come una spinta alle donne ad adottare tratti più maschili essere più aggressive dure e provocatorie è cosa comune oggi vedere nei film e nei videogiochi donne in ruoli violenti che a loro passaggiano lasciano corpi senza vita e distruzione vedere uomini in tali ruoli è deprimente e certamente non lo è meno quando sono le donne a fare o a subire violenza l'ex presidentessa generale delle giovani donne Margaret Nadold ha insegnato il mondo possiede già abbastanza donne dure noi abbiamo bisogno di donne tenere vi sono abbastanza donne dal carattere crudo e offensivo abbiamo bisogno di donne gentili vi sono abbastanza donne maleducate abbiamo bisogno di donne raffinate vi sono abbastanza donne famose ricche abbiamo bisogno di più donne di fede vi è avidità a sufficienza abbiamo bisogno di maggiore bontà c'è abbastanza vanità abbiamo bisogno di maggiore virtù abbiamo abbastanza popolarità ora abbiamo bisogno di più purezza nell'offuscare le differenze fra l'uomo e la donna perdiamo i doni distinti e complementari dell'uno e dell'altra che uniti danno vita a un insieme migliore oggi esorto le donne e le ragazze a proteggere e a sviluppare la forza morale che è in loro preservate quell'innata virtù e quel dono così prezioso che portate nel mondo il vostro istinto è fare il bene ed essere buone e se seguirete lo spirito santo la vostra autorità morale e la vostra influenza cresceranno alle giovani donne dico di non perdere quella forza morale ancora prima di ottenerla fate attenzione al vostro linguaggio che sia pulito e non volgare al vostro abbigliamento che rifletta modestia e non vanità alla vostra condotta che manifesti purezza e non promiscuità non potete sollevare gli altri verso la virtù con una mano se con l'altra vi intrattenete nel vizio sorelle tra tutti i vostri rapporti è quello con Dio la fonte del vostro potere morale che dovete sempre avere come priorità ricordate che il potere di Gesù era dovuto alla sua devozione al volere del padre egli non smise mai di fare ciò che compiaceva il padre cercate di essere quel tipo di discepolo del padre e del figlio e la vostra influenza non svanirà mai e non abbiate timore di applicare quell'influenza senza paure o scuse siate pronte sempre a rispondere vostra difesa a chiunque uomo donna o bambino vi domanda ragione della speranza che è in voi predica la parola insisti a tempo e fuor di tempo riprendi sgrida esorta con grande pazienza e sempre istruendo allevota i vostri figli in luce e verità insegnate loro a pregare e a camminare rettamente dinanzi al Signore nessuno fraintenda volontariamente questa esortazione alle donne né nellogiare e incoraggiare la forza morale delle donne non sto dicendo che uomini e ragazzi sono scusati dal dovere di ergersi in favore della verità e della rettitudine o che la loro responsabilità di servire di sacrificarsi e di aiutare sia minore di quella delle donne o che deve essere lasciata a loro uomini ergiamoci con le donne condividiamo i loro fardelli e accresciamo l'autorità morale nella nostra compagna care sorelle noi confidiamo nella forza morale che portate nel mondo nel matrimonio nella famiglia e nella chiesa noi confidiamo nelle benedizioni che richiamate dal cielo grazie alle vostre preghiere e alla vostra fede preghiamo per la vostra sicurezza per il vostro benessere per la vostra felicità e che la vostra influenza venga sostenuta nel nome di Gesù Cristo Amen Ciascuno di noi deve sviluppare e mettere in pratica la sua personale strategia di gioco con entusiasmo per servire al fianco di un missionario a tempo pieno molti anni fa dovevo parlare con la moglie di uno dei nostri vescovi così telefonai a casa il figlio rispose e disse ciao tua madre in casa rispose sì gliela passo chi parla disse il presidente Nielsen ci fu una breve pausa poi disse mamma c'è il presidente Inkle al telefono non riesco a immaginare cosa possa aver pensato deve essere stata la camminata verso il telefono più lunga della sua vita mi sfiorò il pensiero faccio finta di essere lui non lo feci ma facemmo una bella risata adesso che ci ripenso deve essere rimasta così delusa che fossi soltanto io al telefono che cosa fareste se il profeta del Signore vi chiamasse davvero ebbene lo ha fatto ancora una volta questa mattina il presidente Monson ha chiamato ciascuno di noi a un'opera davvero importante ha detto ora è il momento in cui i membri e i missionari uniscono le forze operino insieme e lavorino nella vigna del Signore per portargli anime abbiamo ascoltato in tutto il mondo pali, distretti e missioni stanno ricevendo una nuova carica di energia mentre si sta adempiendo quanto detto dal Salvatore a Joseph Smith nel 1832 ecco io affretterò la mia opera a suo tempo fratelli e sorelle quel tempo è adesso io lo sento e sono sicuro che lo sentite anche voi volevo mettere il mio entusiasmo e la mia fede in Gesù Cristo in azione quando giocavo a football pensavo in termini di strategie di gioco in una partita non avevamo dubbi che se la nostra squadra fosse stata preparata con i giusti schemi di gioco avremmo avuto successo tuttavia di recente ho parlato con Lavelle Edwards il leggendario allenatore della BYU delle nostre strategie di gioco e lui mi ha detto non mi importava quale schema tu adottassi l'importante era che la squadra facesse punti come uno dei suoi giocatori pensavo che fosse un po' più complesso di così ma forse la sua semplice filosofia è il motivo per cui ha uno stadio che porta il suo nome dato che siamo tutti nella squadra del Signore e ognuno di noi ha una sua strategia di gioco vincente siamo pronti a giocare se noi come membri amassimo davvero la nostra famiglia i nostri amici e conoscenti non vorremmo condividere queste meravigliose verità con loro al seminario di giugno per i nuovi presidenti di missioni una cifra record di 173 nuovi presidenti con le rispettive mogli ha ricevuto le istruzioni finali prima di iniziare il proprio servizio tutti i membri della prima presidenza e del quorum dei dodici apostoli hanno parlato a questo gruppo speciale l'anziano Elton Perry in chiusura ha detto questa è l'epoca più straordinaria della storia della chiesa è qualcosa di importanza pari ai grandi eventi avvenuti in passato come la prima visione come il dono del libro di mormon come la restaurazione del vangelo come tutto ciò che costituisce un fondamento che ci permette di avanzare e insegnare nel regno del nostro padre nei cieli dobbiamo essere impegnati come mai prima d'ora per eguagliare l'entusiasmo dei nostri dirigenti e l'impegno dei nostri missionari a tempo pieno quest'orbera non avanzerà nella maniera intesa dal Signore senza di noi come ha detto il Presidente Henry B. Eyring a prescindere dalla nostra età competenza chiamata nella chiesa o ubicazione siamo chiamati all'opera all'unanimità per aiutarlo nel suo raduno delle anime vorrei parlarvi di una strategia di gioco che ho sentito di dover implementare dopo aver meditato su esperienze passate dopo aver pregato e dopo aver letto il capitolo 13 di predicare il mio Vangelo vi invito a considerare questi tre punti mentre pensate alla vostra strategia primo pregate specificamente per portare ogni giorno qualcuno ad avvicinarsi al Salvatore e al suo Vangelo potete fare questo vedendo tutti come figli e figlie di Dio che si aiutano l'un l'altro sul loro sentiero verso casa pensate ai nuovi amici che troverete secondo pregate ogni giorno per ciascuno dei missionari che sta servendo nella vostra area per ciascuno dei loro simpatizzanti il solo modo per farlo è salutarli guardare la loro targhetta pronunciare il nome che leggete e chiedere loro a chi stanno insegnando di recente l'anziano Russell M. Nelson ha detto finché non conoscete il nome e il volto di una persona il Signore non può aiutarvi a conoscere il suo cuore ho partecipato al battesimo di una meravigliosa sorella che ha condiviso la sua testimonianza ricorderò per sempre quando ha detto mai così tante persone avevano pregato per me mentre tentavo di trovare delle risposte alle mie domande questa famiglia del rione ci tiene davvero a me come potrei non sapere che quest'opera è vera terzo invitate un amico a un'attività in casa vostra o fuori ovunque andiate o qualunque cosa facciate pensate a chi potrebbe godere di questa occasione e poi ascoltate lo spirito mentre vi guida il salvatore mi ha insegnato una lezione sottile durante il mio studio personale del vangelo che credo si applichi perfettamente all'affrettarsi quando sono emozionato per qualcosa questo si riflette nel mio modo di scrivere che spesso termina con un punto esclamativo che secondo il dizionario Merriam Webster è usato per trasmettere un forte sentimento e dà la frase maggiore rilevanza il mio interesse cresceva man mano che iniziavano a saltarmi all'occhio passi delle scritture riguardanti il raduno che terminavano con questo punto come ad esempio la supplica corata di Alma o fossi io un angelo e potessi vedere esaudito il desiderio del mio cuore e poter andare a parlare con la tromba di Dio con una voce da scuotere la terra e gridare il pentimento a ogni popolo punto esclamativo nella mia ricerca delle scritture ho trovato 65 passi che mostrano le forti emozioni di un missionario inclusi questi e quanto grande è la sua gioia nell'anima che si pente punto esclamativo e se accadrà che dovesse faticare tutti i giorni nel gridare il pentimento a questo popolo per portare non fosse che una sola anima a me quanto grande sarà la vostra gioia in sua compagnia nel regno di mio padre punto esclamativo ed ora se la vostra gioia sarà grande con una sola anima che mi avete portato nel regno di mio padre quanto sarà grande la vostra gioia se mi portate molte anime punto esclamativo la mia comprensione di questi passi scritturali unici ha giocato un ruolo fondamentale durante il mio primo incarico come 70 di area ero un po' nervoso di essere il collega di un apostolo l'anziano Quentinel Cook a una conferenza di palo quando quel fine settimana entrai nell'ufficio del presidente del palo per la riunione iniziale notai sullo scaffale dietro la sua scrivania un paio di scarpe logore ricoperte di bronzo accompagnato da un versetto che terminava con un punto esclamativo quando lo lessi senti che il signore era consapevole del mio studio che aveva risposto alle mie preghiere che aveva esattamente ciò di cui avevo bisogno per calmare il mio cuore ansioso chiese il presidente di palo di raccontarmi la storia di quelle scarpe e mi disse queste scarpe appartengono a un giovane convertito della chiesa la cui situazione familiare era povera nonostante ciò egli era determinato a svolgere una missione di successo e lo fece in Guatemala al suo ritorno lo incontrai per rilasciarlo con onore e vidi che le sue scarpe erano completamente logore questo giovane aveva dato tutto ciò che aveva al signore senza molto o addirittura nessun sostegno da parte della famiglia notò che stavo fissando le sue scarpe e mi chiese presidente c'è qualcosa che non va risposi no anziano va tutto bene potrei avere quelle scarpe il presidente di palo continuò il mio rispetto e affetto per questo missionario che stava per tornare a casa erano immensi volevo rendere memorabile l'esperienza così feci ricoprire di bronzo le sue scarpe quando entro in questo ufficio mi aiutano a ricordare l'impegno che tutti dobbiamo mettere a prescindere dalle nostre circostanze il versetto è di Isaia quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle che annuncia la pace che araldo di notizie liete che annuncia la salvezza che dice a Sion il tuo Dio regna punto esclamativo miei cari fratelli e sorelle la brava moglie del vescovo potrebbe essersi chiesta perché il profeta la stesse chiamando vi rendo testimonianza che sia lei che noi non dobbiamo più chiedercelo punto esclamativo so che ciascuno di noi deve sviluppare e mettere in pratica la sua personale strategia di gioco per servire con entusiasmo al fianco dei missionari a tempo pieno punto esclamativo aggiungo la mia testimonianza a quella del profeta Joseph Smith ed ora dopo le numerose testimonianze che sono state date di lui questa è la testimonianza l'ultima di tutte che diamo di lui che egli vive punto esclamativo nel sacro nome di Gesù Cristo Amen Il coro e la congregazione canteranno ora in piedi Avanti andiamo Dopo l'inno di intermezzo ci parleranno gli anziani Arnulfo Valenzuela e Timothy J. Dykes dei 70 Saranno seguiti dall'anziano Jeffrey R. Holland del quorum dei 12 apostoli Questa è la 183esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni R. Wu R. Wu Grazie a tutti. 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 di nuovo. Grazie a tutti. 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 ed 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 edificio, Due settimane fa ho ricevuto una lettera da una famiglia missionaria davvero brava, la famiglia Mons dalla Florida. Hanno scritto, caro anziano Ballard, 30 minuti dopo la trasmissione mondiale sull'affrettare l'opera di salvezza, abbiamo ottenuto il nostro personale consiglio missionario di famiglia. Avevamo i brividi quando abbiamo scoperto che i nostri nipoti adolescenti volevano essere inclusi. Siamo felici di dire che dalla nostra riunione di consiglio abbiamo ampliato del 200% il numero di persone a cui volevamo insegnare. I nostri nipoti hanno portato degli amici in chiesa, hanno trascorso la riunione sacramentale con alcuni dei nostri amici meno attivi e alcuni dei nostri nuovi contatti si sono impegnati ad ascoltare le lezioni missionarie. Una delle nostre sorelle meno attive non solo è tornata in chiesa, ma ha portato con sé dei nuovi simpatizzanti. Nessuno ha rifiutato l'invito ad ascoltare le lezioni missionarie. Che momento meraviglioso per essere un membro di questa chiesa. Obedite ai suggerimenti dello Spirito. Supplicate il Signore in possente preghieta. Siate impegnati nel fare quanto potete nel condividere il messaggio della restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo. Cito le parole di un altro membro missionario di successo, Clayton Christensen. Ogni volta che prendete qualcuno per mano e lo presentate a Gesù Cristo, sentirete quanto profondamente il nostro Salvatore ama voi e la persona la cui mano è nella vostra. Dio vi benedica, fratelli e sorelle, facendovi trovare la grande gioia che deriva dal vedere miracoli tramite la vostra fede. Come ci viene insegnato in Moroni, capitolo 7, Cristo ha detto «Se avete fede in me, avrete il potere di fare qualsiasi cosa mi sia opportuna». Poiché è per fede che si compiono i miracoli. Ed è per fede che gli angeli appaiono e insegnano agli uomini. «Pertanto, se queste cose sono cessate, guai è i figlioli degli uomini, poiché ciò è a causa dell'incredulità, e tutto è vano». Basandomi sulla mia esperienza personale, posso rendere testimonianza che il Signore ascolterà le vostre preghiere e che a partire da ora e per molti anni a venire avrete molte opportunità per presentare il Vangelo di Gesù Cristo ai preziosi figli del Padre Celeste. Prego, Presidente Monson, abbiamo ascoltato e tutti proveremo a trovare quella persona. Prego che tutti noi possiamo provare la grande gioia che scaturisce dal servizio missionario. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. đọcato ChPodange di Gesù Cristo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.